Buongiorno a tutti, sono una cittadina italiana e mi trovo a Tunisi con la mia bambina di 4 anni. A causa delle restrizioni del coronavirus siamo rimasti bloccati qua in Tunisia. Il giorno 20 marzo sono partiti due aerei dalla Tunisia con tratta Tunisi e Fiumicino, ma avendo a seguito un'auto non sono potuta rientrare in Italia. Sia io che la mia bambina e come tanti altri connazionali non possiamo rientrare in Italia, perché abbiamo a seguito automotori eccetera. Abbiamo bisogno di rientrare nel nostro paese, anche qua la situazione è molto difficile. Abbiamo chiamato in ambasciata e l'ambasciata ci dice di rimanere dove siamo. Come cittadini italiani dobbiamo rientrare in Italia, perché dall'Italia partono i tunisini per rientrare nel loro paese e noi vogliamo rientrare nel nostro paese. Chiedo un appello al presidente Musumeci di aiutarci a rientrare in Italia, perché anche qua la situazione è molto difficile, con una differenza che almeno in Italia abbiamo i nostri familiari. Abbiamo bisogno di rientrare, aiutateci, siamo italiani e come tali dobbiamo rientrare. Grazie a tutti per l'attenzione, aiutateci a rientrare, abbiamo bisogno del nostro paese. Grazie.